Fiat Fiorino 1.3 Multijet 95 cavalli Adventure allestimento Telecom Italia dotato di questo meraviglioso porta pacchi, porta scala che ne facilita il posizionamento sul tetto è stato immatricolato nel 2016, ha percorso 86.000 km lo vendiamo con garanzia di conformità e tagliandato dalla nostra officina eventualmente anche con revisione ministeriale nel primo commento a questo video potete trovare tutte le informazioni necessarie per fare un acquisto consapevole dove potete visionare questo veicolo e provarlo? ma naturalmente alla Lenticar in provincia di Pavia a Castelletto di Branduzzo mi raccomando vi aspettiamo numerosi e godetevi gli ultimi istanti di questo video grazie, ciao! grazie a tutti! grazie a tutti! grazie a tutti! grazie a tutti! Grazie.